buongiorno ragazzi allora oggi mi sono resa conto che tempo fa avevo iniziato a fare questa tipologia di video prodotti sinoni poi me ne sono completamente dimenticata e quindi l'ho abbandonata e quindi oggi l'ho visto visto che avevo proprio alcuni prodotti da farvi vedere che non avevate mai visto cioè di cui non avevo mai parlato soprattutto ho deciso di fare questo video e volevo farvi vedere questa maschera per capelli della Omnia Laboratoire all'aloe vera che per me è un prodotto assolutamente no perché perché innanzitutto quando io l'ho presa non ho controllato neanche gli ingredienti di questa maschera perché era da agricoltura biologica in giro vedevo che tutti ne parlavano bene tutti le compravano insomma non ci ho fatto proprio caso però poi sono andata a guardare gli ingredienti ho visto che dietro c'è il poliquadernum sai che è un sticone e quindi insomma mi fa aspettare faccio vedere linci insomma non va per niente bene cioè almeno per me non va bene e oltre al fatto degli ingredienti che per me non sono buoni non mi piace neanche proprio come maschera almeno sui miei capelli perché è pesantissima ogni volta che la utilizzo allora io le utilizzo pochissime infatti questa ce l'ha tipo da una vita però è praticamente ancora quasi piena non so se si vede e visto che io non la utilizzo la darò a mia cugina che penso non si farà problemi e perciò volevo farvela vedere prima che la mandavo via per parlarvele appunto male e quindi stavo dicendo che ho detto pochissima proprio sulle punte e nonostante ciò dopo aver risciacquato e dopo aver asciugato i capelli a parte che i capelli poi non si asciugano mai ci vuole una vita perché sembrano sempre bagnati e poi rimangono proprio pesanti e a me non piace perché io ho due capelli lisci e grassi anche solitivamente insomma sono più quasi normali grassi però comunque l'effetto che mi provoca questa maschera assolutamente non mi piace quindi bocciata poi mi sono un po tutta bagnata perché stava nella doccia poi un prodotto invece nidi cui vi avevo parlato bene all'inizio però proprio quando l'avevo preso l'avevo provato solo una volta e mi sembrava bellissimo perché il colore comunque mi piaceva sto parlando di questo come si chiama natural gloss di neve cosmetics questo è il multiform e stavo dicendo che praticamente questo l'avevo utilizzato una volta e mi avevo detto che mi era piaciuto tantissimo perché comunque il colore mi piaceva sulle mie labbra io le labbra abbastanza scure e questo colore si nota pochino cioè un poco cioè devo proprio abbondare per far notare il rosa poi però continuando a utilizzarlo cioè l'ho utilizzato pochissime volte perché non mi piace ho notato che comunque è un gloss appiccicano è vero che non appiccicano cioè perlomeno questo qui il questo mio si sente che è un lip gloss e allora ve lo faccio vedere secondo me è cioè vabbè adesso non penso che riuscite a notarlo comunque è molto secco cioè non riesco proprio a prendere neanche il prodotto dentro e quindi non riesco a spalmarlo bene sulle labbra però comunque dicevo il colore mi piace quindi per me è un prodotto nidi perché non lo so ancora proprio continuerò a utilizzarlo e vedrò se bocciarlo totalmente o se promuoverlo diciamo per ora rimane un prodotto nidi poi infine volevo farvi vedere un prodotto sì che non vi avevo mai fatto vedere di cui non vi avevo mai parlato che è questa crema mani di nani con bio con al nem jojoba oil con estratto di cetro e bergamotto questa qui l'avevo trovata tempo fa da acqua e sapone un sacco di tempo fa perché ce l'avevo già quest'inverno e non so perché non ve ne avevo mai parlato non è mai capitato e questa l'avevo trovata in offerta proprio vicino alla cassa l'ho pagata tipo 1 euro e 50 sono 100 millilitri e mi sta durando tantissimo appunto perché la sto usando da quest'inverno e mi piace tantissimo perché si spalma bene non lascia scia bianca va massaggiata comunque bene a me questa cosa sulle mani piace perché comunque io voglio sentirle belle idratate mi piace fare un massaggio sulle mani e però comunque poi aspettate uno massimo due minuti e se asciuga potete fare qualsiasi cosa e qui dietro c'è scritto la ricca a questa oltre a essere una crema per le mani anche una crema per le unghie quindi ottima la ricca presenza di olio di mandorle dolce glicerina ripristi nel sistema idrolipidico della pelle stressata da agenti esterni e smog il cedro il bergamotto e l'olio di semi di jojoba bio svolgono un'azione idratante ed addolciante per le nostre mani l'olio di nem bio dermoprotettore vabbè modo d'uso applicare la crema più volta al giorno sulla pelle ben asciutta delle mani e massaggiare fino a comprare ad assorbimento e il power di 12 mesi e quindi praticamente un'ottima crema se la trovate prendetela anche se io da quella volta non l'ho più vista da questo sapone quindi non so sinceramente se era come si dice un'edizione limitata non lo so perché non l'ho più vista però è ottima anche il profumo se non ricordo male è buono sì non è niente di particolare però è delicato è molto buono quindi per me è super promossa gli ingredienti sono vediamo non li ho guardati però dovrebbero essere ottimi sì sono ottimi comunque ve li faccio vedere però non lo so se si vedranno perché sono piccolissimi non penso e vabbè niente comunque questa 0 peg 0 parabeni 0 colorante 0 silicone buonissima crema per le mani anche io l'ho utilizzata quindi anche quest'estate mi sono trovata benissimo e anche quest'inverno mi sono trovata benissimo quindi inverno estate va sempre bene secondo me e niente quindi volevo farvi vedere solo questi tre prodottini di cui non vi avevo mai parlato e fatemi sapere se li avete provati se la pensate come me o se avete altre opinioni e noi ci vediamo se volete al prossimo video ciao